Grazie Roberto, ci hai descritto le buone pratiche di una regione modello in un paese nel quale peraltro i differenziali di queste pratiche stesse sono purtroppo molto profondi e soprattutto le regioni che più avrebbero bisogno di buone pratiche si caratterizzano. Io rivolgo un caro saluto a tutti, alle tante amiche e ai tanti amici che ci hanno raggiunto aderendo all'invito in un primo pomeriggio feriale. Ringrazio in particolare le molte associazioni rappresentative di interessi e di valori che hanno voluto aderire al nostro invito e prendere parte fin dall'inizio a questi lavori. Consentitemi di ringraziare il gruppo di lavoro che ha organizzato questo evento, un gruppo di giovani guidati da Lorenzo Malagola. Le ringrazio davvero perché hanno avuto la felice idea di organizzare questo evento in un luogo simbolo delle trasformazioni intervenute, come ci ricordava poco fa l'amico Perini, in un luogo che oggi potremmo chiamare archeologia industriale e allo stesso tempo sede di attività terziarie che ben rappresentano i termini del cambiamento. Seguiremo un ritmo abbastanza serrato e mi auguro di concorrervi per primo. Ci raggiungerà molto presto Angelino Alfano. La giornata si è caricata di significato anche ulteriore rispetto alla cronaca, anche se la nostra ambizione è di non fermarci ad essa, per quanto importante sia. Non a caso abbiamo voluto, a partire dal seminario di Orvieto, diffondere una bozza di manifesto, lo ricordava poco fa l'amico Formigoni, una sorta di magna carta o di carta dei valori in un paese nel quale in frequenti fasi della sua storia si sono espresse egemonie culturali alle quali, a nostro avviso, si deve ricondurre la persistente anomalia italiana di una bassa intensità occupazionale nella nostra crescita economica. Noi siamo, da questo punto di vista, siamo e siamo stati un'eccezione, un'eccezione negativa, cioè il paese che anche negli anni di maggiore crescita ha registrato sempre un basso coefficiente di sua traduzione in posti di lavoro, come se, cioè, vi fosse, vi sia stata ricorrentemente, in certa misura, vi sia ancora una sorta di paura di assumere, una sorta di timore di gestire un rapporto di lavoro. Questa paura, questo timore che hanno rattrappito la propensione a tradurre in occupazione la crescita economica è per molti aspetti legata alle anomalie politico-culturali che hanno caratterizzato la nostra storia, soprattutto post-bellica. Per questo abbiamo voluto intitolare questo incontro, questa prima conferenza per il lavoro del popolo della libertà più lavoro, più lavoro nel paese nel quale tradizionalmente abbiamo registrato meno lavoro di quanto se ne potesse in realtà creare a parità di condizioni, nel rapporto con altri paesi, a parità di condizioni della crescita. E abbiamo voluto partire da una carta dei valori, della visione e conseguentemente anche dell'azione per più lavoro nella convinzione che sia doveroso affermare un'egemonia culturale opposta a quella che si è posta all'origine della contrazione del fattore lavoro nel nostro paese. Cioè, porre alla base di questa possibile nuova stagione di crescita dell'economia e della società, di crescita con occupazione, porre alla base di tutto ciò i valori della tradizione nazionale. Sono quei valori della tradizione nazionale ai quali si sono contrapposte le ideologie fonte di rattrappimento del lavoro. Quindi la persona, la famiglia, la comunità. L'idea che il lavoro non è solo la fonte di reddito, ma è il modo attraverso il quale ciascuna persona esprime il proprio potenziale nel rapporto con le altre persone e così sviluppa la propria personalità, sviluppa le comunità alle quali appartiene. Noi siamo orgogliosamente patria del capitalismo familiare, l'impresa si definisce come comunità sin dalla sua origine e poi vogliamo che anche quando si espande, anche quando si può raggiungere la quotazione di borsa, anche quando la famiglia originaria è sostituita dal management, quell'azienda, quell'impresa rimanga sempre comunità, sia comunità. Noi abbiamo, crediamo che l'impresa, cioè, possa essere comunità non solo di interessi, ma anche di valori. Questo spirito comunitario significa condivisione e la condivisione è opposta al conflitto, a quel conflitto che altri hanno ritenuto virtuoso e che in realtà si è rivelato vizioso per la società attiva, perché la visione che nel manifesto descriviamo è proprio questa, quella della società attiva, quello che l'Italia non ha saputo essere per i forti condizionamenti di cui dicevamo e che pensiamo invece possa diventare a maggior ragione in un tempo di contrazione demografica. Essere società attiva, società inclusiva, perciò competitiva, società che è capace di offrire a ciascuno l'opportunità di raggiungere qualificazioni superiori attraverso una pluralità di percorsi, non solo educativi, ma anche frutto dell'integrazione fra l'apprendimento e il lavoro, percorsi come l'apprendistato di cui diremo, che sono la ragione di società più attive della nostra, come certamente è quella tedesca, con la quale per varie ragioni tendiamo a confrontarci nel tempo che viviamo. Quindi la visione della società attiva consegue a quei valori e alla base della visione della società attiva si colloca il vero postmoderno articolo 18 della persona, cioè l'accesso alla conoscenza, l'accesso alle competenze, quel postmoderno articolo 18 che fa la persona occupabile perché la mette nelle condizioni sempre di raggiungere le competenze che nel mercato del lavoro la fanno considerare utile a sé e utile agli altri. La occupabilità è la base della politica per il lavoro. L'azione si articola lungo tre linee che molto schematicamente richiamerò più protezione, meno regolazione, più salario, più produttività. Più protezione. Sì, è doveroso garantire al lavoro più protezione ma con un approccio più sostanziale, più attivo, meno passivo, meno fondato, cioè su logiche semplicemente difensive. Più protezione significa pensare alla salute e alla sicurezza nel lavoro non in termini di adempimenti burocratici e formali ma in termini di comportamenti sostanziali quanto più condivisi con coloro che in quella comunità che si chiama impresa lavorano, condividono le fatiche. Io saluto gli amici dell'AMMIL che sono qui presenti, l'Associazione Nazionale dei Mutilati e degli Invagli del Lavoro che condividono questo approccio sostanzialistico e operano a partire dall'istruzione di base grazie a un accordo che facciamo con la collega Gelmini per diffondere la cultura della sicurezza proprio perché non vogliamo affidare ai soli adempimenti formali un obiettivo così concreto come la salute nel lavoro. Più protezione attraverso non solo i centri per l'impiego non solo le strutture pubbliche ma più protezione rispetto alla disoccupazione attraverso una proposta che facciamo alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni degli imprenditori costruire in ogni provincia un organismo bilaterale partecipato dagli uni e dagli altri per condividere le politiche di collocamento e di ricollocamento cioè il collocamento ad operarci in termini comunitari cioè il territorio inteso come comunità significa non solo affidarci alle funzioni pubbliche ma integrare quelle funzioni pubbliche con le funzioni esperte come quelle delle agenzie private del lavoro ma anche con le stesse parti sociali cui deve essere richiesto ancora più in questa stagione di partecipare attivamente dell'accompagnamento di coloro che non hanno mai trovato il lavoro o che hanno perso il lavoro verso una nuova opportunità di inclusione nel mercato del lavoro la terza ipotesi riguarda alla luce della recente riforma previdenziale i cosiddetti lavoratori esodati e comunque i lavoratori che già oggi sono con un linguaggio che per conflitto di interessi non condivido considerati anziani lavoratori cioè a forte rischio di esclusione sociale e di assenza di reddito proteggere gli esodati è un dovere perché hanno realizzato accordi sulla base di una legislazione in quel momento vigente sulla base della quale stessa devono poter realizzare il percorso che avevano liberamente concordato proteggere i lavoratori anziani significa condividere l'ipotesi formulata dal governo di un fondo specifico per l'esodo sostenuto dalle imprese quando ve ne siano le condizioni purtroppo ma allo stesso tempo anche e questa sarà una nostra proposta di legge un risparmio previdenziale che alimenti in forme trasparenti la previdenza obbligatoria quel conto corrente che alimenta il calcolo contributivo cioè occorre non solo sostenere come è doveroso e lo ribadiamo il cosiddetto secondo pilastro della previdenza complementare ma favorire l'afflusso di risparmio previdenziale anche al sistema obbligatorio per cucire periodi che nel trauma della riforma potrebbero non consentire le condizioni minime per una prestazione previdenziale adeguata quindi più protezione meno regolazione meno regolazione significa procedere lungo la via praticata nel corso di questi anni e che ha a quale punto di arrivo naturale lo statuto dei lavori di cui parlava Marco Biagi cioè il superamento dell'antico statuto dei lavoratori varato nel 1970 e ricordiamolo definito sulla base di accordi e leggi che erano state prodotte nel decennio precedente nell'illusione che il mondo fosse destinato ad avere caratteristiche di stabilità si fissò ciò che leggi e contratti avevano nel periodo precedente prodotto oggi possiamo darci l'obiettivo in un tempo ragionevolmente breve di un nuovo testo unico semplice già per sé incoraggiante la propensione ad assumere che dovremo nel nome di Marco Biagi chiamare statuto dei lavori e che tuttavia ha bisogno di questo completamento del percorso di riforma di cui stiamo discutendo per averne tutti gli elementi quali sono i cinque elementi nella minore regolazione che sottolineiamo in primo luogo l'apprendistato così come concordato con tutte le organizzazioni dei lavoratori degli imprenditori con tutte le regioni e financo con l'opposizione di allora con voto unanime parlamentare quindi pochi mesi fa quell'apprendistato muoveva da due presupposti uno che per incoraggiare le imprese a praticarlo occorresse più semplicità più certezza secondo che per renderlo efficace in termini di incremento delle competenze fosse necessario riconoscere l'impresa come l'ambiente formativo più idoneo queste due caratteristiche devono rimanere ferme anche perché unanimemente definite secondo punto mantenere o meglio corollario del primo punto l'apprendistato deve essere il modo tipico con il quale entrare nel mercato del lavoro per questo noi abbiamo inteso contenere i tirocini e ci fa piacere che lo si voglia fare ancora un po' di più limitandoli compiutamente alla fase educativa ma insieme noi facciamo una proposta e la possiamo fare proprio noi noi facciamo la proposta di abrogare le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni a progetto sono mature le condizioni per questa scelta lo possiamo fare noi perché è bene ricordarne la storia le cosiddette co-co-co esplodono nella seconda metà degli anni 90 sulla base di una circolare fiscale e di una norma previdenziale sotto gli occhi distratti del governo di sinistra e della CGL esplodono nella seconda metà degli anni 90 sulla base di nessuna regola e nessuna tutela del collaboratore se non un profilo fiscale e previdenziale di tipo minimo Marco Biagi diventa padre delle collaborazioni a progetto perché il mio amico Inglisano che è qui in sala della CISL e Raffaele Bonanni a quel tavolo e credo anche Luigi Angeletti per onestà a quel tavolo in un certo giorno che ricordo bene in un luogo informale con una persona che non è più tra di noi gli chiedeste chiedeste a questa persona di dare regola ove non c'era regola di dare protezione ove non c'era protezione e così nascono le collaborazioni a progetto per dare regola e protezione ove non c'era oggi possiamo noi che demmo regola ove non c'era dire che è maturo il momento per abrogare il simbolo del modo improprio il simbolo se volete dell'ipocrisia italiana quella che voleva il rapporto di lavoro tipico rigido e la possibilità peraltro di eluderlo attraverso forme improprie come sono state le collaborazioni secondo vogliamo che rimangano semplici contratti a tempo indeterminato ad orario modulato perché sono gli strumenti della conciliazione fra tempo di lavoro e tempo di non lavoro in particolare tempo di famiglia il part time deve esplodere nel nostro paese essere molto di più di quanto non sia e voi capite la ragione per cui il part time non si è diffuso perché quella contrazione rispetto al fattore lavoro portava a contrazione dei datori di lavoro verso la quantità di teste da amministrare noi dobbiamo fluidificare l'attitudine ad assumere a relazionarsi con più persone non appesantendo quindi il contratto a orario modulato così come nella sua versione del lavoro intermittente ha consentito e ce lo ricordano gli amici della confcommercio saluto il loro direttore generale ce lo ricordano quello ci hanno consentito l'emersione degli ispezioni lavorativi del fine settimana terzo noi vogliamo contrastare l'emersione attraverso i buoni prepagati i voucher che devono restare semplici dei voucher ci si deve preoccupare del dove non sono e non del dove sono nel senso che sotto la linea gotica sfumano fino a sparire eppure in quei due terzi del nostro paese gli ispezioni lavorativi per la raccolta breve in agricoltura o per il lavoro accessorio nelle famiglie ci sono e sono sistematicamente sregolati saluto Angelino Alfano che ci ha raggiunto ed Angelino è arrivato nel penultimo punto il quarto punto della minore regolazione sono i contratti a termine noi diciamo una cosa semplice contratti a termine europei modellati sulla disciplina europea niente di più niente di meno per quanto riguarda infine un numero che sta fra il 17 e il 19 che tanto per alcuni ha rappresentato in termini di vincolo ideologico anche se non era parte del testo originario dello statuto dei lavoratori varato dalla commissione giugni e che è tanto rappresentato per i molti giovani costretti a rapporti di lavoro precari da una rigidità concentrata sui più adulti noi diciamo e lo dirà meglio di me e con più precisione Angelino Alfano che siamo e saremo leali con la proposta che il governo ha fatto e vorrà ulteriormente esplicitare perché la ragione di questo intervento sta nella richiesta della comunità nella quale siamo quella dell'Unione Europea di accentuare la capacità di crescere e di aumentare l'occupazione sapete che la lettera della Banca Centrale Europea conteneva indicazioni lungo due colonne l'una della stabilità l'altra della crescita l'idea della riforma del lavoro fu iscritta nella colonna della crescita la ragione è quella da cui siamo partiti aumentare la propensione ad assumere e a fare lavoro dica il governo quale ritiene sia il contenuto più idoneo per rafforzare la nostra credibilità europea e internazionale e per rafforzare la nostra capacità di tradurre in occupazione anche la più modesta capacità di crescere ricordo alle parti sociali che nel corso dell'estate noi abbiamo varato una norma che ha potenziato la contrattazione aziendale rendendola capace anche di derogare a norme dello statuto dei lavoratori non a principi fondamentali italiani nel senso di costituzionali europei o internazionali dell'organizzazione internazionale del lavoro in questo ambito le parti hanno avuto strumenti a disposizione anzi hanno strumenti a disposizione una loro capacità di dialogo e di intesa potrebbe addirittura superare l'esigenza di una norma più salario più produttività sì anche in queste condizioni è doveroso porci l'obiettivo della crescita del salario c'è un modo per non far crescere i salari farli determinare solo dalla contrattazione collettiva nazionale perché la contrattazione collettiva nazionale sempre di più si deve tarare sulle condizioni più difficili delle imprese del relativo settore nemmeno sulle condizioni medie se noi continuassimo continuassimo lungo questa via continueremmo a fare ciò che fu fatto in Italia dopo l'accordo Ciampi del 1993 quando si determinarono bassi salari e bassa produttività perché la rigida definizione centralizzata del salario impedì ai lavoratori delle aziende performanti di partecipare della redditività che pure essi contribuivano a creare oggi noi affermiamo al contrario il diritto di questi lavoratori a condividere nella logica della comunità le fatiche ma anche i risultati nella vita dell'impresa per questo abbiamo compreso il progetto che la Fiat ha concordato con tutte le organizzazioni tranne la minoranza della FIOMCGL mi riferisco al FISMIC il cui segretario confederale è qui con noi alla Wilma alla FIM all'UGL metalmeccanici i cui segretari generali peraltro sono con noi e a quelle intese che sono fondate proprio sull'idea della condivisione invito tutti a visitare lo stabilimento di Pomigliano perché possiamo capire come far morire la lotta di classe attraverso un ambiente lavorativo che è fatto per una dimensione insisto di comunità più salario significa e questo è un appello forte al governo mantenere almeno la detassazione e la decontribuzione del salario deciso in azienda che abbiamo voluto dal primo consiglio dei ministri del governo Berlusconi il presidente del consiglio volle allora partire subito con questo impulso al reddito dei lavoratori ma anche alla produttività collegare salari ed efficienza vuol dire sviluppare la condivisione nella vita delle imprese e superare definitivamente la logica del conflitto vuol dire anche fare in modo che quegli accordi aziendali resi possibili dall'articolo 8 della manovra estiva potranno comprendere tutele integrative per gli stessi componenti del nucleo familiare come già molti accordi testimoniano in favore del diritto allo studio dei figli o in favore del carrello della spesa delle famiglie il tutto non soggetto a tassazione che non riguarda prestazioni indirette di salario ma riguarda piuttosto questo spirito comunitario al quale noi continuiamo a fare appello in sintesi apprendistato contratti a tempo indeterminato flessibili salari di efficienza più salario là dove è possibile far crescere il salario sono queste indicazioni che ci permettiamo rivolgere alle parti sociali all'Italia tutta nella convinzione che costituiscano la coerente evoluzione del lavoro che abbiamo svolto nel corso di questi anni quanto meno di un intenso lavoro partito nel 2001 con un libro bianco che ancora oggi risulta in parte inattuato per le note resistenze conservatrici che prescindono dall'interesse delle persone in carne ossa e spirito noi che partiamo dalla persona che mettiamo la persona al centro di ogni cosa misura della bontà delle nostre azioni fine ultimo di ogni nostra iniziativa noi vogliamo soprattutto più lavoro per le persone grazie grazie grazie